come vedete ragazzi hanno già inserito graficamente la possibilità di evolvere le armi oltre il 130 infatti come vedete arriva al 133 solamente che ovviamente non abbiamo i super caricatori quindi in realtà la funzione già c'è un'altra cosa molto interessante che non è specificata sulle patch notes ragazzi è quella che adesso possiamo modificare l'ultima perk di qualsiasi arma posso mettere ciascun colpo sparato conferisce più 1,8% a livello critico per un secondo cumulabile fino a 15 volte piuttosto che magari sullo shot staccato al posto che estordire o respingere se eliminiamo un nemico invece su un'arma normalissima quale lo spettro silenziato abbiamo una vasta scelta e ragazzi sulle armi viola non so come sia possibile ma è possibile mettere un doppio elemento guardate in questo caso abbiamo la perk di elemento natura e io che ne so vado a metterci quella di energia vedete non so dirvi in base a cosa sia possibile è possibile solamente su quelle che si chiamano fondatore con il nome quindi prestate anche attenzione a questo ue ue ragazzi e bentornati eccoci qua finalmente con il rapporto di stato casa base del 21 luglio 2020 salve comandanti questa settimana ci immergeremo nella nuova funzionalità ventura tenetevi ben stretti i vostri progetti abbiamo molto di cui parlare avventurati nel livello successivo comandante disponibile il 28 luglio alle 2 dell'ora italiana ventura è la nuova funzionalità di ripristino di salva al mondo con la quale i comandanti potranno rivivere livello e progressione di risorse mentre scalano le vette di ciascuna nuova stagione ventura ciascuna escursione della durata di una stagione è ambientata in una zona stagionale con modificatori 11 nuovi tutti da scoprire la prima ventura stagionale si svolge nella nuova zona ventura ad esolazione devastata quando entrerai in questa nuova zona il tuo livello di potenza si trasformerà nel tuo nuovo livello ventura stagionale esclusivo per questa zona attenzione quando entrerai in questa zona la nuova barra di livello ventura mostrerà il tuo attuale progresso nel livello e la ricompensa prevista al raggiungimento del successivo il tuo livello ventura determina anche il tuo livello di potenza e le tue statistiche forte all'interno della zona perciò non dovrai preoccuparti di superstiti o ricerche alleati con gli altri giocatori per aumentare ulteriormente le tue statistiche forte nella nuova zona ventura ad esolazione devastata le missioni si sbloccano in base al tuo livello ventura stagionale e ti sposterai in aree di maggiore difficoltà via via che sali di livello per ottenere più ventura e salire di livello dovrai semplicemente giocare e completare missioni allerte e missioni e incarichi nella zona ventura ogni stagione azzererà il tuo livello ventura stagionale e introdurrà un nuovo modificatore ogni anno avremo un totale di 5 zone ventura a rotazione ciascuna ambientata in un bioma diverso e dotata del proprio modificatore esclusivo per offrire un'esperienza di gioco unica i modificatori cambieranno a ogni stagione e metteranno alla prova il tuo equipaggiamento il modificatore della zona ventura ad esolazione devastata è il temuto indicatore furia questo modificatore assorbe costantemente la sua energia e può essere rigenerato solo danneggiando i nemici con le armi in più l'indicatore furia riduce drasticamente il tempo di recupero delle abilità e ne aumenta i danni fa il pieno di energia e scatena le tue abilità parliamo adesso degli oggetti ventura e del nostro zaino cosa ne sarà? nelle zone ventura non è possibile creare armi quindi non ci sarà data la concessione di craftare perciò è arrivato il momento di affinare la tua capacità di cercare risorse i comandanti inizieranno con un set di armi base e dovranno fare affidamento su ciò che si trova nel mondo per combattere gli abietti a parte la ricerca in ventura c'è un nuovo modo per raccogliere armi clip ha completato delle grosse riparazioni sul campo e ha aggiustato i distributori automatici i distributori automatici si trovano in tutto il mondo e offrono molteplici armi di alta rarità che potrai acquistare con le risorse ricercate se ti troverai a corto di durevolezza cerca le nuove postazioni di riparazione è possibile trovarle in missione e possono essere utilizzate per riparare le armi utilizzando i materiali ricercati non temere potrai ancora creare le tue trappole a patto che tu abbia i materiali necessari la chiave è creare trappole a livello inferiore e se vi ricordate più o meno come erano le orde no ragazzi? a proposito di creazione parliamo del tuo inventario come il tuo livello di potenza avrai uno zaino distinto rispetto alla campagna principale che verrà azzerato a ogni stagione ventura questo significa che se trovi un distributore automatico non potrai utilizzare le risorse nell'inventario della tua campagna principale per acquistare un'arma inoltre in ventura gli oggetti non possono essere rilasciati per cavartela nella zona ventura potrai contare solamente su te stesso e sui tuoi progressi non sono permessi gli scambi quindi fate molta attenzione ognuno dovrà giocare il proprio ruolo in questa modalità e come appunto sostenevo quando avevamo visto i leaks sui distributori automatici vi ricordate? avevo ipotizzato che fosse per un evento che fosse relativo comunque solamente ad un evento infatti è così oltre ad aumentare le tue statistiche fort nella zona ventura i primi 50 livelli ventura offrono anche ricompense per la tua collezione inclusi tre nuovi tipi di ricompensa voucher arma ricerca armi degli eventi passati nel registro raccolta e attenzione ragazzi rivantaggio di gioco cambia il vantaggio di gioco sui progetti arma e i materiali super caricatori aumenta il livello di progetti eroi superstiti della tua campagna principale da 50 a 60 quindi potremo finalmente potenziare le nostre armi dal livello 50 a livello 60 quindi dalla potenza 130 alla potenza 150 e lo metto tra parentesi con un punto di domanda poi vedremo continua a salire oltre il cinquantesimo livello in ciascuna stagione per sbloccare stravantaggi materiali per evoluzione aggiuntivi e molto altro ancora attenzione però che le notizie non finiscono qua per fortuna altre notizie da desolazione devastata nuova serie di incarichi impostore cerca un vero eroe nella zona di desolazione devastata appena scoperta sottoponi Dennis a un addestramento da guerriero nella nuova zona avventura ad esolazione devastata per sbloccare il boss burger di casa base Dennis chi ha ordinato il Dennis? vantaggio standard incremento burger le eliminazioni hanno 8% di rilasciare un burger e questi burger conferiscono 53 punti saluti base e 5 unità di energia ogni secondo per 3 secondi mentre come comandante le eliminazioni hanno il 15% di chance invece di rilasciare il burger e questi burger questa volta conferiranno 85 punti saluti base e 8 unità di energia ogni secondo per 3 secondi Dennis sarà disponibile nella serie di incarichi impostore il 28 luglio alle 2 ora italiana Penny brigata di compleanno buon terzo compleanno Penny il suo vantaggio standard recupero lampo riduce il recupero di plasma impulso del 18% e come comandante del 42% sarà disponibile nell'incarico a bietti esplosivi il 25 luglio attenzione attenzione nel 2020 non ci saranno lama compleanno il lama compleanno tornerà il prossimo anno avete capito ragazzi? niente lama compleanno quest'anno purtroppo avevamo la sensazione che sarebbe successo in quanto comunque non avevano spoilerato quest'anno cosa ci sarebbe stato se ci fossero stati lama compleanno oppure no insomma tutte queste cose qui purtroppo ragazzi niente lama compleanno quest'anno ma andiamo avanti stella mandata si mette in marcia il 25 luglio alle 2 ore italiana aiuta la stella mandata a raggiungere la stazione radio per trasmettere la sua canzone dell'estate carica il furgone radona il gruppo è ora di mettersi in marcia con un nuovo modificatore per sbloccare anche lo Kyle sovraccarico cinetico guarisce la tua salute massima del 2,125% come comandante invece del 6,375% sarà disponibile in metti di marcia il 25 luglio attenzione ragazzi è il turno di Souti Fossile in molti lo stavate richiedendo ovviamente quello che rigenera 4 e 12 di energia mentre lo scudo è esaurito e sarà disponibile nell'incarico metti in marcia il 25 luglio alle 2 ritorna anche Luna Paleo che aumenta i danni d'arma da mischia del 3 e del 9% in base comunque alla salute attuale e sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 24 luglio alle 2 quindi Luna Paleo nel negozio la prossima settimana preparati a metterti in marcia Queen si mette in marcia per la parte 2 il primo agosto alle 2 ore italiana Queen torna alla stazione radio per trasmettere la parte 2 della sua canzone dell'estate carica il furgone e raduna il gruppo è ora di mettersi in marcia con un secondo modificatore per sbloccare Fiona Bianco Accecante la conoscete già tutti abbastanza bene incrementa il livello critico di spade asce e falci del 15 e del 45 ultima novità di queste patch notes è Jess Archeologo lo conoscete tutti abbastanza bene molti lo stavano richiedendo in questo periodo aumenta l'efficienza energetica degli attacchi pesanti con la carica antimateria del 28 e del 128% e sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 31 luglio alle 2 ora italiana ci vediamo ad esolazione devastata comandanti attenzione là fuori e qui ragazzi si concludono le nostre patch notes molto confusionali cerchiamo di riassumere tutto molto brevemente e molto semplicemente ci saranno in pratica queste venture a partire da questo giovedì quindi tra pochissimo ragazzi in queste venture potremo ottenere questi super materiali caricatori che ci permetteranno appunto di potenziare le nostre armi oltre il 130 per la nostra campagna principale ovviamente perché vi ricordo che nelle venture non possiamo utilizzare le nostre armi bensì solo le nostre trappole per quanto riguarda le armi avremo i distributori automatici avremo uno zaino separato dalla nostra storia quindi i materiali che sprechiamo in quella modalità non verranno sprecati diciamo nel nostro zaino principale nella campagna principale ci saranno dei miomi nuovi dei modificatori nuovi ogni stagione ragazzi azzeriranno i progressi di questa campagna quindi mi raccomando quando starà per finire la stagione magari i materiali che ci avanzano cercate comunque di sprecare tutto quello che avete cercate comunque di salire il maggior numero di livelli possibili e di ottenere tutte le ricompense possibili perché appunto saremo limitati solamente una volta per stagione secondo me è molto interessante questa come idea comunque come volevo si dimostrare rispetto comunque a quello che ci avevano detto che si prendevano tra virgolette meno cura di salva al mondo e diciamo quel post un po' bruttino da leggere che è stato un paio di settimane fa beh io comunque diciamo che non mi aspettavo un cambiamento così radicale su salva al mondo infatti è rimasto lo stesso salva al mondo hanno semplicemente messo in chiaro quello che già sapevamo cioè che si prendevano meno cura di salva al mondo rispetto al battle royal che ci saranno meno aggiornamenti rispetto al battle royal che i contenuti comunque saranno questi insomma sono già cose che comunque ci eravamo già tutti arrivati diciamoci la verità è più una cosa che secondo me dovevano dire per cercare di mostrare più trasparenza nel loro operato ecco tutto qua e ragazzi questo è quanto per il video di oggi fortunatamente delle belle patch notes sostanziali il tutto arriverà a brevissimo tra pochissimo giovedì ragazzi siamo qui che dire io non vedo l'ora e voi? fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate io ammetto che sono in hype tantissimo d'altronde un sacco che non abbiamo contenuti tra virgolette nuovi su salva al mondo a parte armi eroi nuovi eccetera eccetera insomma che dire con questo hype un bel like ce lo possiamo lasciare vediamo quanto arriviamo bella bella ciao ciao